È forte la tradizione mariana a Savona. La diocesi venera Nostra Signora della Misericordia, un riferimento che Monsignor Gero Marino non ha mancato di sottolineare. E al santuario dedicato alla patrona della città, il neovescovo si recherà in visita domenica mattina, prima ancora dell'ingresso ufficiale. Dopo la visita di Benedetto XVI è stato proclamato santuario di tutte le confraternite d'Italia. La Vergine è apparsa nella Valle delle Timbro il 18 marzo 1536. Mentre un umile contadino è nella sua vigna a rincalzare del filari della vite, vede un grande fulgore, cade per terra quasi tramortito e sento una voce che dice levati, alzati e non dubitare che io sono Maria Vergine. Dice misericordia e non giustizia, cioè non vendichiamoci, stiamo in pace. Anche se ci sono stati questi sascorsi di guerra, bisogna adesso recuperare la misericordia, la Madonna della misericordia. L'apparizione avviene appunto in un momento delicato per Savona. La città medievale è stata distrutta da poco dai genovesi. Approfittando della guerra che opponeva Francesco I a Carlo V, Genova rase al suolo la rocca medievale, quella dove oggi sorge il Prima Mar. È il 1528, la guerra distrugge opere ed edifici storici come la vecchia cattedrale. Savona, alla fine Cinquecenti, inizio Seicento, come moto anche di orgoglio, di ritrovata indipendenza, dice cosa c'è di più bello che costruirci una nuova cattedrale, più bella magari di quella di prima. Più bella non era possibile perché questa era picco sul mare, era meravigliosa. Però alcuni reperti della vecchia cattedrale sono stati trasportati nella nuova. Savona è anche città di papi, almeno due i più importanti, Giulio II e Sisto IV. Quest'ultimo in particolare fece costruire una cappella dedicata ai suoi genitori, la Cappella Sistina di Savona. Prende lo stesso nome della Cappella Sistina di Roma perché è lo stesso papa che fa costruire anche la Cappella Sistina di Roma. Vedete in realtà un ambiente non rinascimentale ma rococò perché nel Settecento è stata completamente rivisitata da Francesco Maria della Rovere, che era un discendente, ma sotto tutto quello che voi vedete si potrebbe ancora vedere la Cappella Sistina rinascimentale, proprio quella commissionata da Sisto IV.